E' lei che alla fine ha tirato un po' le piacette. Vi siete lavati le mani? Ok, siamo in pane di Wanderley. Se lo facciamo a mo' di focaccetta è un po' meglio. Tutto ok! E ora aggiungiamo gli altri ingredienti secchi, quindi la farina di lino e la farina di mandorle. Quanto abbiamo dato? 20? 20! Esce caldo! Allora, li mettiamo dentro così a 3 mm, gli diamo 10 minuti a 170 e vediamo come stanno. Ci hanno copiato! Avocado! Si prende l'avocado! E' buonissimo! E' buonissimo! E' veramente buono! Ciao! 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 Grazie.